Allora, buonasera a tutti, benvenute e benvenuti. Cominciamo questo nuovo ciclo di M9 legato al Marzodonna, ai temi ovviamente dell'8 marzo. Non a caso l'8 marzo l'abbiamo lasciato libero, quindi cominciamo il 9 con le iniziative perché giustamente c'è chi vuole scioperare. L'8 marzo riconosciamo questo diritto. Quindi cominciamo oggi con la presentazione del libro di Nadia Maria Filippini, Mai più sole contro la violenza sessuale, edito da Viella nel 22. Siamo molto felici di presentarlo anche qui a Mestre, l'autrice è naturalmente presente e poi interverrà anche lei. Oggi ne parliamo con, prego, Lorenza Perini, partendo dalla mia sinistra, Lorenza Perini, Patrizia Romito, Angela Toffanin, un bellissimo parterre. Domani invece la giornata è dedicata al cinema e ai documentari e ai film storici, quindi proietteremo alcuni film dell'epoca più un nuovo film invece degli artisti Maria Iorio e Raffa El Cuomo. Il, tra l'altro lo vedete, La lotta non è finita, del 1973, è un documentario dell'AMOD, che è un partner tra gli altri della nostra iniziativa, che sarà però introdotto dalla storica del cinema Anna Maria Licciardello. Quindi ci tenevamo comunque a presentare il documento, i documenti, in un'ottica anche di storia del cinema. Sabato invece, la mattina, a partire dalle 11, parleremo di, sia in termini storici della battaglia per il salario al lavoro domestico e per arrivare poi a parlare delle sfide contemporanee. Lo faremo con Beatrice Busi, Anna Curcio, Leopoldina Fortunati, Barbara Malknet e Raffaella Sarti. Raffaella Sarti è la presidente della Società Italiana delle Storiche, che come vedete forse qualcuno l'avrà riconosciuto dal logo, un'altra dei partner di questa iniziativa. E Barbara Malknet, che è qui presente, che ringrazio molto, è tra le co-organizzatrici insieme a M9 di tutto questo ciclo ed è anche l'autrice di un'installazione che potete poi in qualunque momento venire a vedere al secondo piano di M9, è un'installazione che recupera materiali dell'archivio di lotta femminista della donazione di Maria Rosa dalla Costa. Non entro nei dettagli di tutti i nomi citati, ovviamente, se non la farei veramente troppo lunga. Aggiungo solo che nel pomeriggio di sabato, una bellissima iniziativa, faremo una passeggiata per chi vorrà seguirci, per i luoghi storici delle mobilizzazioni femministe qui a Mestre dagli anni 70 ad oggi, che sarà guidata da Maria Teresa Sega e ancora Nadia Maria Filippini, più tante altre protagoniste dell'epoca che, perdonatemi se non le cito tutte per non far torto a nessuna, ma le vedete elencate lì. Poi ci sarà ovviamente tempo di presentarle prossimamente. Allora, io ringrazio intanto le ospiti, le relatrici di oggi. Oggi parliamo di corpi, probabilmente, rispetto al sottotitolo che abbiamo voluto dare a questo ciclo. Si parla di violenza sessuale, lo facciamo attraverso la ricostruzione che Nadia Filippini fa di una pagina importante della nostra storica e della nostra storia, che è una pagina sia, come dire, importante per la storia nazionale, ma è una pagina molto importante per la storia del femminismo. Perché è stato uno spartiacque, il processo che Nadia Filippini racconta, ricostruisce con molti dettagli, soffermandosi sia sugli aspetti processuali, ma anche e soprattutto poi di come l'opinione pubblica ha affrontato quella vicenda. Perché è in quegli aspetti che possiamo apprezzare, possiamo oggi ricostruire, come dire, quanto le donne e quanto il femminismo hanno veramente rivoluzionato la nostra società, quanto la mentalità, grazie a quel lavoro, grazie, come dire, a quell'azione collettiva, che era un'azione collettiva di gruppi femministi, di gruppi di donne anche molto diverse, naturalmente, come dire. La Filippini riconosce la dialettica che c'era fra tutti questi gruppi, che erano in alcuni casi molto spontanei, in altri più strutturati, e dialogavano poi con realtà organizzative molto più di lungo periodo, quelle dei partiti, naturalmente, ma anche quelle collaterali ai partiti, naturalmente come l'Udi, ovviamente, da citare, ma anche il CIF e altre realtà sociali italiane. Dicevo, uno spartiacque per la storia italiana, perché decidendo di mediatizzare, è una brutta parola, ma è questo di fatto che successe, quell'evento si è potuto, come dire, scoperchiare un mondo, scoperchiare il mondo della società italiana più arcaica, come dire, del mondo che ci siamo poi con gli anni settanta lentamente lasciati alle spalle. Quindi è un libro importante, è un libro che ci tenevamo a presentare, che appunto, giustamente, apre questo ciclo. Le nostre ospiti sono state invitate, perché tutte, su aspetti diversi, si sono occupate, si occupano di questi aspetti. Lorenza Perini ha studiato, per esempio, il processo Piero Bon, quindi un processo di pochissimi anni precedente, del 73, mettendolo a confronto con un analogo caso francese, qui parliamo di un processo per un aborto. Patrizia Romito, che insegna a Trieste, è molto nota perché studia questi aspetti da moltissimi anni, è una delle figure più importanti in Italia per quanto riguarda lo studio della violenza sessuale, e poi Angela Toffanin, che è ricercatrice del CNR, e che studia anche lei queste cose, in particolare il monitoraggio, se non ho capito male, di tutte le pratiche per la tutela di questi aspetti. Io volevo dire ancora solo due cose che mi ero appuntato. ecco, appunto, un'altra cosa che a proposito sempre del tema del corpo, come dire, grazie a questa svolta del 76, di questo processo, finalmente le donne fanno capire che non sono più degli oggetti, ma dei soggetti a tutti gli effetti, delle protagoniste e dei soggetti di storia. Io mi fermo, magari mi riservo di dire qualche cosa dopo, va solo detto per contestualizzare in termini storici la vicenda, che questo processo si svolge a poca distanza da quello del, forse più noto naturalmente, ma non meno importante questo, del processo del Circeo, ovviamente, che anche quello è decisivo per mostrare una trasformazione, nel cambiamento, nell'attitudine, nel modo di riferirsi a questi aspetti. O forse, dico forse, perché poi magari, appunto, scopriremo da quello che ci diranno le relatrici che dagli anni 70 ad oggi non tutto è cambiato, come io ho provato in termini forse più ottimistici a dire, e adesso ce lo diranno le nostre ospiti. Grazie. Direi che possiamo seguire dalla mia sinistra parte Lorenza Perini e poi a seguire, grazie. Così mi sentite? Buonasera a tutti quanti e tutte quante. Buonasera a Nadia. Allora, io volevo così, comincio da una cosa che ho sentito appena ho cominciato a leggere questo libro e ho pensato che questo è stato, per me, un libro molto desiderato. Ho sempre desiderato leggere, tutte insieme, cucite, come Nadia Filippini ha saputo cucirle, tutte queste informazioni, tutte queste storie e tutti questi momenti di una storia che io, da storica, ho, come dire, studiato, ho provato a, come dire, a scavare e con tanta fatica ho cercato, insomma, di mettere insieme la delicatezza del tema, del tema della violenza, che è la questione centrale di questo, del libro di Nadia Filippini, e la delicatezza e la difficoltà, in qualche modo, di parlare del corpo, che è anche propria del processo per aborto che ho studiato io a Padova, nel 73, mi hanno sempre messo di fronte a questa difficoltà delle parole, difficoltà di dire le cose, di trovare le parole per ridire le cose che trovavo scritte nelle fonti, diciamo così. Ecco, il libro di Nadia ha questo meraviglioso merito, secondo me, di metterci tutti questi diversi piani di delicatezza di fronte con semplicità e con una cucitura che io trovo utilissima, non so come altro esprimermi. Ecco, veramente grazie, quindi, per aver fatto questo lavoro di esegesi delle fonti, ma anche di approfondimento di ognuna, con una grande cura, davvero, molto importante. Questo libro certamente parla di corpi, però parla anche e soprattutto io ci trovo questo filo molto interessante che è quello di parlare di una legge, di una legge sotto processo, della legge e di un sistema giuridico, di un sistema di procedura penale in quel momento del nostro paese assolutamente in questione, al centro, che lo si veda attraverso il processo per aborto, che lo si veda attraverso il processo per violenza sessuale, che lo si veda attraverso il processo del circeo. Ecco, sono tutti momenti che ci dicono che in quel momento sotto processo non ci sono le donne, non ci sono i corpi, ma c'è la legge. Il confronto che mi è stato possibile fare con il caso francese di Bobigny, questo processo sempre per aborto di una giovane donna, in un altro sistema culturale, però in un altro sistema di leggi, e anche in un paese diverso dal nostro per mentalità, mi dà proprio questa distanza. In entrambi i casi c'è una legge, c'è la legge, c'è il codice penale sotto processo, ma con esiti diversissimi. In Francia, poco dopo, un processo aperto, un processo in cui la società partecipe, in cui diventa quasi un accumularsi di saperi, in quel momento diventa un momento di condivisione di saperi per tutti. e non c'è vittimizzazione di chi è sotto processo. Ecco, questo è il caso francese, il caso italiano che si chiude in se stesso, che resta arido e che continua nel 1976 a produrre la stessa situazione di una grande aridità del momento in cui le donne sono da una parte o dall'altra degli spalti del tribunale, come accusate, come nel caso del processo per aborto, oppure come vittime, dall'altra parte. E sempre al centro c'è questa legge che è molto indietro rispetto a quanto avanti è la società, a quanto avanti sono andate le donne, a quanto avanti è andato il movimento, i movimenti, al plurale. Ecco, questa è, secondo me, la cosa che si nota di più, ecco, in questo, rileggendo insieme tutte queste vicende e legando insieme i fatti, in qualche modo, come Nadia mette benissimo in luce, c'è un paese che è descritto, un paese che ha due velocità, forse anche molte di più, ma insomma in questo sicuramente si descrivono due mondi, in qualche modo, no? Il mondo letto e scritto e raccontato e parlato con la voce delle donne e dei movimenti, ma anche della società, della società, e le donne intese, non solo le donne nei movimenti, ma le donne ovunque, e quello che gli atti processuali ci raccontano, sono dei momenti veramente impressionanti, secondo me, di distanza, di voler ridurre una questione che è la questione capitale della violenza contro anche la questione dell'aborto, ha dentro una parte grossa di violenza, a atti processuali e a parole, le parole della giustizia, le parole della legge, ecco, sono veramente molto difficili da digerire in qualche modo quando vengono lette anche adesso, ma sicuramente anche in quel momento e credo che sia l'importanza di questo libro sia anche questa di metterci di fronte alla difficoltà delle parole. Se ne parlava prima un pochino tra noi, sono persone nominate molto spesso, molte fonti, molti documenti, magari anche come dire, in momenti, abbiamo detto le tesi di laurea, insomma, le donne che sono protagoniste di queste storie tremende. Non lo sono, perlomeno lo posso dire nel caso Piero Bon, ecco, l'ho detto il nome, perché, lo posso dire probabilmente anche perché insomma, il caso di Gigliola Piero Bon è diventato un libro, un libro che ha varie vicende, adesso non sto qui a raccontare, ma molto interessanti, pochissime copie con il suo nome come autrice, ma in realtà è un libro collettivo in qualche modo del movimento nella sua parte romana molto probabilmente che ha seguito Gigliola nella costruzione diciamo mediatica in qualche modo del processo. Ecco, queste storie, queste persone, queste donne, questi nomi e cognomi non sono così rilevanti probabilmente adesso perché ci dicono semplicemente, poi li possiamo anche leggere in maniera forse un po' così, con qualche superficialità e dire che sono stati degli espedienti per parlare, degli espedienti per costruire un processo per mettere sotto accusa quel momento, quella legge in quel momento. però sono persone, però sono storie, però sono vite e allora anche con Nadia si diceva bisogna avere una delicatezza speciale per questa materia che è il corpo, che è il corpo sotto attacco e che è il corpo però di fronte a un giudice. il caso del processo per aborto ha delle follie al suo interno, delle procedure che continuano ad andare avanti a dispetto di ogni logica e lo stesso succede nel caso veronese. La procedura penale che va avanti a dispetto di ogni logica emette quasi una tavola anatomica, smembra proprio il corpo femminile e accusa, non se ne esce da questa cosa, la procedura vuole questo. Ecco, la difficoltà di oggi credo sia proprio di rimettere tutti questi elementi fuori dalla curiosità, fuori dalla morbosità, fuori da tutto questo e ritornare a riflettere su quello che è il filo conduttore secondo me di tutto questo, di quel momento nella forza dei movimenti, la difficoltà, io credo che anche l'installazione se l'avete vista dia questo senso in qualche modo della difficoltà del produrre informazione, del comunicare, del dirsi le cose, si scrivevano, si disegnavano a mano, si ciclostilavano, ecco, sono tutte cose che forse adesso no, sì, certo, si fanno probabilmente però anche no, insomma, si comunica in ben altri modi, ecco. C'era una forza per istruire processi di questo tipo, per stare dietro, diciamo, in qualche modo, per sostenere le donne come nel caso, nel caso di Padova e come nel caso di Verona tutto questo tempo e anche dopo il processo ci voleva una forza enorme e Nadia lo mostra bene, il movimento ha dimostrato e ha voluto dimostrare una grande forza, ecco, doveva, possiamo anche dire che si tratta di, come dicevo prima, di usare in qualche modo il caso per, però ci voleva un modo per dimostrare che il movimento era forte e aveva una voce e finalmente aveva una voce e questa è stata la strada. Non sono stati due processi che hanno cambiato la storia subito, però certamente sono stati processi di rottura, perché hanno rotto un modo di dire le cose, un modo di vedere il corpo, un modo di giudicare le vittime. Non sono stati processi di rottura immediata, ma per la società che era l'Italia e che è ancora, diciamo che senza probabilmente questi momenti così forti e così simbolici probabilmente le cose saranno andate ancora più lentamente di come sono andate. Il processo francese con questa modalità di mettere in scena diciamo il sapere intorno il sapere della società al confronto della pochezza della legge in quel momento era forse un altro scenario, uno scenario che non era comparabile con il nostro. C'era una sorta come categoria adesso lasciano il tempo che trovano c'era una sorta di connivenza in qualche modo si metteva in scena il processo in una società che era già pronta ad andare oltre a ricevere diciamo sapere di questo tipo e a portarlo fuori e a costruire infatti un procedimento che ha portato poi alla legge per esempio sull'aborto molto velocemente dopo il caso francese. In Italia questo tipo di messa in scena del processo che mostra quanto la società è avanti quanto la scienza è avanti quanto le culture è avanti quanto le donne sono avanti e quanto indietro invece il procedimento penale non ha funzionato non ha funzionato nel caso di Padova non ha funzionato nel caso veronese la bellezza di tutto questo è che dietro c'erano gli stessi gli stessi avvocati che portavano avanti questa modalità ed entrambi i casi sono state sono state rigettate queste modalità di fare processo però la strada era aperta la strada era quella non è cambiata subito neanche la procedura penale perché arriviamo agli anni 80 perché questo potesse succedere però sono stati fondamentali ecco senza senza questi momenti così forti le cose non sarebbero andate come sono andate quindi grazie ancora a Nadia per questa bella ricostruzione importantissima adesso e se posso dire un'ultima cosa mi ha colpito ieri una ragazzina noto 10 anni insomma a cui ho chiesto cosa se sapesse cos'era l'otto marzo e mi ha detto che era la giornata contro la violenza sulle donne e allora io mi sono detto prima mi sono detto beh insomma fa un po' di confusione sì può darsi però poi mi sono detto anche che quando si parla di donne il tema della violenza è il tema è il tema anche se insomma sono momenti differenti si ricordano momenti differenti difficoltà differenti il lavoro il corpo momenti differenti il 25 novembre o l'otto marzo però il tema del corpo al centro e della violenza sono il tema quindi non mi sono sentita di dirle hai sbagliato anche perché non è quello il mio compito e penso che sia importante che oggi noi siamo qui a parlare proprio di questo quindi passo volentieri la parola alle mie colleghe e ringrazio ancora Nadia bene buonasera a tutti e anche io ringrazio Nadia moltissimo per il libro e anche per avermi invitata a discuterne con voi io non sono una storica quindi non è tanto sul come dire sul lavoro dello storico che rifletterò ma sicuramente sulla questione della violenza e questo libro è preziosissimo perché oltre alla ricostruzione molto puntuale molto sensibile di tutto quello che è successo in occasione di questo processo ci dà degli strumenti per capire come dire cosa sostiene il cambiamento sociale quali sono le condizioni in cui alcune cose possono essere fatte e altre invece non sono come dire non entrano neanche nel reame delle possibilità quindi questo libro come ovviamente tutte voi sapete tratta del diciamo del primo processo politico per uno stupro in Italia e del movimento delle donne che è intervenuto per farne un atto politico e per sostenere la ragazza stuprata però il libro parla anche di tante altre cose cioè ci dà ci disegna in maniera molto emozionante e farei una parentesi molto emozionante per una persona diciamo come me che ha l'età in cui queste cose le abbiamo vissute in prima persona quindi diciamo per me leggerlo ha avuto un valore così al di là del testo storico perché mi ha fatto rivivere molti ricordi quindi il libro parla del processo ma parla anche di tante altre cose che le donne hanno fatto in quegli anni sono per esempio gli anni in cui si è cominciato a parlare di aborto come un fatto politico sono gli anni in cui è stato tradotto con una come dire meravigliosa iniziativa di Feltrinelli dell'epoca perché oggi non so bene se lo rifarebbe noi e il nostro corpo che è stato uno strumento di lotta assolutamente straordinario di conoscenza per tutte noi del nostro corpo per l'appunto ma anche di lotta politica sono gli anni in cui il movimento delle donne le donne femministe si incontrano con le donne del sindacato e da lì nascono e appunto il libro ne parla le 150 ore salute delle donne quindi una cosa assolutamente straordinaria e sono gli anni per l'appunto in cui questo stupro diventa un fatto politico quindi sono gli anni in cui il movimento delle donne è forte e si impegna su questi temi e molto interessante questa è una cosa che io non avevo sicuramente colto e quindi ancora grazie anche per questo a Nadia Filippini è un movimento delle donne che dappertutto non è solo nelle grandi città e questo forse è una differenza con altri paesi europei non mi azzardo ad affermarlo però non mi sembra che in Francia per esempio sia stato così diffuso nei paesini ci sono gruppi di donne e Verona è una città importante ma non è una capitale quindi Verona Padova sono luoghi in cui il movimento delle donne è forte e trascinante appunto si occupa un tribunale e ci si fa cacciare dalla polizia che diventa anche questo un atto politico molto forte io non sono molto ottimista quindi diciamo passo dalla dalla riflessione su quello che è successo è stato descritto nel libro a quello che è constato oggi non sono molto ottimista alcuni giorni fa l'altra settimana c'è stato a Belluno un processo per violenza sessuale in cui è stato fatto a porte aperte è un caso di diciamo di molesti sessuali sul luogo di lavoro ma insomma si configura come violenza sessuale un capoturno che ha fatto violenza un operaia per anni e molto probabilmente ha fatto violenza anche a altre operaie perché il modus operandi è sempre lo stesso i molestatori sono seriali e sicuramente non si tratta né di un unico episodio né di un'unica vittima e in aula c'erano oltre la signora e gli avvocati c'erano tre donne a sostenerla tre e questa donna aveva bisogno di essere sostenuta perché denunciare questa fabbrica era in un paesino del bellunese è un atto ancora oggi di straordinario coraggio quindi allora sì certo le donne denunciano forse denunciano più di una volta denunciano molto poco il sia il grevio quindi diciamo il l'organismo indipendente che verifica nei vari stati firmatari l'applicazione della convenzione di Istanbul quindi sia il grevio sia il SIDAV hanno indicato che in Italia c'è un grave ritardo per quanto riguarda l'applicazione delle norme sulla violenza contro le donne e anche in particolare la violenza sessuale perché persistono stereotipi stereotipi sessisti e la società fa ostacolo una piena uguaglianza tra i sessi e analizza proprio il fatto che ci siano così poche denunce e ancora meno poi condanne come un risultato del fatto che sessismo pregiudizi stereotipi contro le donne continuano a essere forti e attivi nei tribunali rileggendo la descrizione della situazione e del processo colpisce che naturalmente in quegli anni la vittima sia stata colpevolizzata per il suo comportamento perché Letta con lo sguardo di oggi è una vittima ideale è lo stupro come dire su cui inequivocabile perché è stata aggredita fisicamente è stata rapita c'era un fidanzato che è stato ferito credo che le è stata fatta una visita ginecologica per dimostrare che era vergine e così via Nadia Filippini cita il fatto che recentemente nel 2021 l'Italia è stata condannata dalla Corte Europea per i diritti dell'uomo di Strasburgo proprio per gli atteggiamenti le parole i comportamenti sessisti stereotipici nei confronti delle donne in occasione di un processo per stupro in cui naturalmente la vittima era meno ideale di quello che Alba il nome della ragazza il nome lo pseudonimo quindi è come l'impressione che da da quegli anni sono passati cosa 40 anni il passo avanti e come dire nella qualificazione della vittima quindi ma una ragazza che non corrisponde comunque ai modelli diciamo di brava ragazza ancora oggi viene trattata in un tribunale in maniera in maniera tale che la Corte Europea dei diritti dell'uomo condanna l'Italia perché insomma la sua vita sessuale i suoi comportamenti sono stati chiamati in causa naturalmente senza peraltro mettere in discussione minimamente lo stupro di gruppo avvenuto nei suoi confronti quindi non è la violenza che viene messa in discussione a quel punto ma è la persona della vittima quindi diciamo i famosi passi avanti io insegno e anche insegno queste queste materie lavoro molto con gli studenti e le studentesse e come dire mi faccio un un impegno nel mostrare i passi avanti che sono stati fatti che ovviamente ci sono però come dire il dubbio su quanto avanti siamo andati e quanti poi passi indietro si fanno e resta e come dicevo prima il movimento delle donne in Italia oggi c'è ma non c'è abbastanza dove servirebbe che ci fosse quindi la cosa non come dire la situazione non mi sembra non mi sembra rassicurante e poi per concludere qualcosa che mi ha colpito molto dunque io io sono una psicologa e quindi anche mi occupo dell'impatto che la violenza ha sul benessere sul benessere il malessere la sofferenza delle vittime e anche sull'importanza che nel mondo sanitario e anche nel mondo giudiziario questa sofferenza venga riconosciuta però mi preoccupa anche molto la come dire l'espansione eccessiva di questa preoccupazione sull'impatto sulla salute che oggi si parla moltissimo di trauma diventa una specie di parola chiave il trauma che spesso c'è e però come dire quando si comincia a leggere gli avvenimenti in termini psicologici quindi il trauma ancorché una lettura legittima e una lettura in termini psicologici l'aspetto politico si sposta e viene messo un po' nell'ombra no? e mi colpisce molto che la ragazza che appunto avete chiamato avete chiamato Alba non sappiamo molto del suo percorso poi nel corso della vita però non manifesta un trauma manifesta una collera quindi la sua sofferenza è diventata politica e penso che da psicologa penso che questa trasformazione sia possibile ma se non hai il sostegno intorno a te il sostegno sociale intorno a te il sostegno politico è anche affettivo ma una chiave di lettura politica effettivamente resta il trauma no? e questo ci porta poi su un percorso diverso e che ha i suoi ostacoli tra l'altro perché se sei traumatizzata sei meno credibile quindi anche questo come dire in un contesto patriarcale tutto può ritorcersi contro le donne quindi anche questo mi sembra un passaggio problematico e poi magari lo riprenderemo dopo insomma anche sulla legge italiana sulla violenza sessuale la convenzione europea ci impone di fare un passo avanti sul consenso che deve essere dato liberamente cosa che nella nostra legge non è affatto chiaro ma magari di questo aspetto un po' più tecnico parleremo poi quindi passo la parola alla collega è piaciuto tantissimo dico una roba poco scientifica perché è scritto molto bene è appassionante fra il secondo e il terzo capitolo racconta i giorni le settimane del processo e lo leggi come se fosse un romanzo ci sono i colpi di scena ci sono le sorprese e quindi questa è una cosa che magari in un libro di storia è scontato ma non lo è sempre così tanto a volte leggi un saggio e fai un pochino fatica a girare le pagine invece questo lo leggi molto bene e è una cosa che a me è piaciuta tantissimo perché ti appassioni alla storia e se ti appassioni riesci forse a capire qualcosa di più come ha già detto Lorenza Perini è un libro utile comodo in cui trovi un sacco di informazioni di una storia di cui magari avevi già sentito parlare ma poi era come dire era più un racconto tra donne di generazioni diverse che non di quelle storie che trovi citate confesso che anch'io ho fatto riferimento a processo per stupro ho fatto riferimento al processo del Circeo di questo di Verona non lo trovavo citato e non non lo andavo a cercare non sono una storica e non lo citavo e quindi per me è stato molto interessante molto utile leggere questo libro perché ci ho letto anche come dire e ci ho trovato un percorso di costruzione di condivisione di conoscenza se la conoscenza il sapere su un determinato tema in questo caso la violenza è un processo collettivo un processo sociale vediamo ricostruendo la genealogia dei concetti la genealogia delle politiche e chi si occupa di violenza o di temi di questo tipo torna sempre agli anni 70 a lezione con le studentesse e gli studenti raccontiamo racconto che in questo periodo finalmente c'è un cambiamento degli standpoint la violenza non è più un qualcosa di privato non è più qualcosa che ha a che fare con la morale ma che ha a che fare con la sofferenza delle donne che è qualcosa che non ha a che fare con le donne ma ha a che fare con gli uomini questo cambiamento avviene negli anni 70 e Nadia Maria Filippini ci racconta come avviene all'interno di una produzione una condivisione di conoscenza che è sul piano penale ma è anche sul piano mediatico e sul piano della condivisione di saperi e quindi può essere anche letto come un libro su come qualcosa diventa un sapere comune parla di vittimizzazione secondaria e come ha detto anche Patrizia Romito siamo ancora a parlare di vittimizzazione secondaria da un anno la commissione europea sta discutendo una direttiva sulla violenza maschile contro le donne la violenza di genere eccetera in cui cerca di proporre agli stati membri degli strumenti per migliorare l'accesso delle donne alla giustizia perché è vero che qualcosa è cambiato ma le donne non denunciano in Italia ma evidentemente anche negli altri paesi europei questo lo dice il grevio e non solo il grevio in qualche modo non si fidano delle istituzioni non hanno voglia di subire ancora un'altra violenza quando cercano di denunciare qualcosa però è un pochino cambiato in questi quasi 50 anni perché la vittimizzazione secondaria non è più soltanto quella fatta dalla polizia o dai tribunali nei casi di violenza sessuale ma anche quella che molte donne subiscono durante i processi per l'affidamento dei figli e delle figlie la separazione e queste faccende qui un po' complicate un'altra cosa che mi è piaciuta tantissimo di questo libro è che raccontandoci un pochino come la violenza sessuale la violenza maschile contro le donne sia una violenza fortemente legata alle strutture sociali di genere ci dice qualcosa delle limitazioni che le donne e i modelli che hanno a che fare con le donne e la femminilità hanno a causa di questa gabbia di questa struttura ma ci racconta anche e ci fa vedere in alcuna riflessione sui due stupratori o anche sul fidanzato di Alma ci racconta come questa cosa delle strutture sociali di genere di fatto limitino e impattino anche sulla maschilità e questa è una cosa abbastanza interessante che non tutti i libri su questo tema lasciano intravedere e che per me è stata una bella sorpresa ci racconta come io mi occupo di politiche di intervento a sostegno delle donne in situazioni di violenza e di politiche e lì cerchi di capire perché una legge o un intervento è stato pensato in quel modo e non in quell'altro e se si legge questo libro si riesce a capire tra le articolazioni della galassia dei movimenti femministi e delle donne che non coincidono queste due cose ma probabilmente lo sapete tutte molto meglio di me riesce a capire perché o che sentieri certe conoscenze certi certi posizionamenti politici hanno preso nel tempo e si sono sedimentate in quella o in quell'altra decisione politica che magari osservate a 50 anni di distanza se non vai a ricostruire la genealogia dei percorsi ti sembrano quasi poco comprensibili o magari alcune cose proprio non non riesci le trovi quasi difficilmente contestualizzabili come ha detto Patrizia Romito il tema della violenza l'assunzione della costruzione di uno spazio per le voci delle donne è uno dei portati che è molto descritto nel libro è anche uno dei risultati delle lotte di questi movimenti e intorno all'8 marzo intorno al 25 novembre ci sono sempre delle campagne delle questioni delle richieste alle donne per alzare la voce per denunciare per raccontare le proprie violenze però diventa difficile farlo se non hai la solidarietà se le tue richieste non possono essere accolte un'altra cosa che misura la commissione femminicidio e che ha a che fare con la vittimizzazione secondaria è in un tema vicino a questo della violenza sessuale che è quello dei femminicidi è che se guardiamo i dati dei femminicidi del 17 e del 18 vediamo che solo il 15 per cento di queste donne avevano denunciato a me questo dato colpisce mi colpisce fin lì mi colpisce molto di più che dalla denuncia al femminicidio siano passati due anni e quattro mesi due anni e quattro mesi in cui le politiche pubbliche la società i diversi servizi non hanno saputo mettere in atto degli interventi per proteggere queste donne e in qualche modo questo ci aiuta a fare un altro cambiamento di prospettiva dai silenzi delle donne dalle pratiche che vittimizzano le donne direttamente a includere anche quelle che in qualche modo le vittimizzano per una mancanta mancanza di intervento del pubblico sia come istituzioni che come società ho poi una domanda per Nadia Maria Filippini perché una cosa che mi ha colpito del libro riguarda quello che diceva anche nell'introduzione di Eau Carrère il fatto che ci sia stata una specie di capacità di trasformare questo processo in una questione mediatica questa capacità ha visto l'alleanza dei media dei giornalisti dell'epoca stimolata ovviamente dai movimenti femministi dai movimenti delle donne che hanno saputo costruire delle alleanze e probabilmente però nel frattempo c'era stato anche un cambiamento da parte dei giornali dei giornalisti delle giornaliste anche se mi sembra che ci siano più giornalisti che giornaliste in quello che ho intravisto nel libro e vorrei sapere come è cambiata questa sensibilità se magari ci sono delle studi degli analisi in questo tempo e come potrebbe cambiare perché è vero che il movimento femministo attuale forse non è così onnipresente è anche vero che se penso alle mobilitazioni degli ultimi anni forse fa un po' più fatica a costruire questo tipo di alleanze quindi grazie mille e anche a voi per aver aspettato il mio ritardo grazie a tutti voi allora avete capito sono al tavolo qui l'unico che ha uno sguardo più ottimista dico però dico però una cosa anche perché so che in sala c'è chi come dire chi se ne occupa tutti i giorni che dopo questa vicenda naturalmente quella del Circeo e altre che Nadia Filippini introduce insomma accenna solamente di processi per strubro cominciano a nascere i centri antiviolenza prima in modo molto spontaneo auto-organizzato naturalmente poi via via sempre più istituzionalizzato ed è il pubblico che finalmente se ne fa carico allora è chiaro i centri antiviolenza poi squadernano un mondo di violenza domestica drammatico chiaramente di patriarcato e di violenza dentro le famiglie tremendo però sicuramente come dire riguardando alle radici dell'Italia di oggi lì c'è un momento che impone come dire una torsione che fa prendere una strada diversa al paese che pure andava già su tante velocità diverse diciamo che sul piano della mentalità cambia qualche cosa io che sono cresciuto in una casa dove il libro che veniva citato noi e il nostro corpo era presente largamente citato come dire insieme a tante altre cose penso che come dire il paese sia comunque cambiato e che quindi certo ho forse sono cresciuto in un osservatorio privilegiato magari potrete pensare questo però comunque ho questa mantengo questa idea so che non so se volete magari le riflessioni delle altre vi hanno attivato qualche ulteriore considerazione perché se no so che l'autrice ha poi preparato anche per contestualizzare meglio il processo che ha studiato ha ricostruito di Verona c'è un po' di materiale di immagini e di video però forse Lorenza voleva dire qualcosa volevo solo sottolineare una cosa che nel libro è molto chiara però così mettendo insieme varie cose mi sembra che sia importante ridirlo ancora che nonostante tutta questa fatica nonostante tutto tutto quello che il libro racconta e mette insieme e ci mette di fronte ancora io considero folle in qualche modo che si sia dovuto comunque aspettare il 1996 per una legge sulla violenza sessuale in questo paese che ancora siamo qui a discutere di quanto è inadeguata in qualche maniera questa legge io penso che sia veramente una follia questa cosa e che ci mostra quanto il sistema sia stato alla fine sempre molto resiliente in qualche modo un sistema patriarcale molto resiliente e su questo come dire ancora ce ne sarà insomma da fare in questo senso credo che sia una nota di delusione in qualche modo di constatazione di una situazione tipo muro di gomma in qualche modo in cui si fa un percorso però quel sistema trova sempre un modo per ritornare a prendersi dei suoi spazi e adesso siamo in una situazione in cui probabilmente vediamo anche come si diceva la necessità di avere un movimento femminista che ci aiuti a trovare solidarietà a trovare parole a trovare momenti così collettivi e poi magari non lo troviamo e non gli possiamo chiedere di fare tutto in qualche maniera però è evidente che ne abbiamo ancora moltissimo bisogno allora chiedo all'autrice di venire e chiedo alla regia di mandare allora lascio il microfono vai avanti con questo grazie 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 a tutte grazie ovviamente in primis a Livio M9 che mi hanno invitato qui a discutere a presentare questo libro ringrazio molto le relatrici per le loro parole le loro osservazioni e cercherò anche di rispondere ovviamente a quanto è stato sollevato io vi farò vedere alcune immagini di questo processo e vi farò vedere anche alcuni spezzoni di un video registrato allora perché un'altra cosa importante da dire tra i vari primati di questa vicenda di questa grande mobilitazione è che questo è stato il primo processo per stupro ad essere ripreso dalla RAI non quello più famoso come dire che passa se voi andate in Wikipedia e mettete processo per stupro viene fuori il processo di Latina del 1979 bene non è quello il primo il primo è questo il primo è questo è questo processo che è stato ripreso dalla RAI quindi esiste questo documentario di addirittura 40 minuti in cui si vede appunto l'alba che parla si vedono le lotte femministe si vede la mobilitazione si vede tutto questo ecco quindi diciamo e vi farò vedere alcune scene perché la RAI in maniera eccezionale ha concesso alla mia associazione di poter proiettare alcune clip ma solo molto poche perché appunto il resto è coperto dal famoso discorso della legge del 2006 del diritto alla privacy e del diritto all'oblio ecco allora però ovviamente prima di farvele vedere ma intanto magari come dire alcune le comincio a mandare in onda ecco voglio fare alcune precisazioni in merito a questo processo riprendendo alcune osservazioni fatte effettivamente questo processo segna una spaccatura profonda un'innovazione nella storia del movimento delle donne è davvero uno spartiacque ecco come è stato detto e questo per varie ragioni per vari motivi io li chiamo i vari primati di questo processo nel senso prime volte di questo processo prime volte prime volte che una ragazza di 16 anni non solo denuncia gli stupratori cosa all'epoca molto rara e lo è tuttora come dire ma decide di unirsi al movimento femminista e assieme al movimento femminista di fare del suo processo appunto un processo politico cosa vuol dire un processo politico un processo politico che mette sotto accusa la violenza la violenza sessuale e soprattutto mette sotto accusa nello specifico la violenza dei tribunali la violenza appunto delle istituzioni giudiziarie ecco questo è davvero una cosa che non si era mai registrata mai verificata è la prima volta che ecco peraltro appunto una vittima prende la parola e parla e tiene delle conferenze stampa e denuncia in prima persona questo quanto ha subito non parla quasi mai degli stupratori guardate questa è una cosa lei lo dice molto chiaramente io quello che voglio denunciare non sono non sono gli stupratori anzi nei loro confronti ha quasi delle parole così molto molto deboli dice in fondo anche loro sono delle vittime usa addirittura questo termine sono vittime di una società sono vittime di una cultura dello stupro ecco lei denuncia la cultura dello stupro e quindi questo è un grandissimo è una grandissima svolta un po' come Franca Viola se volete no Franca Viola aveva rifiutato il matrimonio riparatore lei rifiuta la vergogna lei rifiuta il silenzio della vergogna lei infrange il muro di silenzio della vergogna e lo dice e lo dice molto chiaramente ecco quindi ed è appunto la prima volta questa è tra le prime volte la prima volta che un movimento femminista chiede che cosa chiede di costituirsi parte civile in sostanza chiede le porte aperte nel processo chiede di essere presente accanto a lei non solo per solidarietà ma appunto perché non si verifichi quella che oggi noi chiamiamo vittimizzazione secondaria e andando avanti con le prime volte come dire la prima volta che la prima volta che Tina Lagostina Bassi che noi tutte penso molte di quelle presenti conoscono perché era l'avvocata delle donne prende assieme a Maria Magnani Noia la difesa assume la rappresentanza di parte civile e perché è vero prima c'era stato Vincenzo l'avvocato Vincenzo Todesco che era lo stesso avvocato del processo Piero Bon ma poi Vincenzo Todesco fa un passo indietro e dice no devono essere delle donne a gestire questo processo anche nella rappresentanza di parte civile quindi la prima volta di Tina Lagostina Bassi la prima volta e questa anche questa è una cosa incredibile che dei giudici vengono ricusati per maschilismo a seguito delle domande che fanno con una scelta anche questa mai vista mai sentita da parte delle avvocate di appunto denunciare ricusare la corte viene ricusata per maschilismo ovviamente non si dice così si dice per concordanza oggettiva di valori con appunto gli imputati uguale maschilismo quindi è davvero un processo delle prime volte ma è anche la prima volta e qui nel libro lo sottolineo bene che dei giudici a posteriori dopo aver fatto sgombrare a forza l'aula dopo aver fatto le domande che hanno fatto dopo aver vittimizzato nuovamente però evidentemente come dire anche sotto la pressione di media nazionali e internazionali emettono una sentenza assolutamente innovativa perché in questa sentenza si accoglie come dire la richiesta delle avocate di parte civile e si riconosce qual era questa richiesta la richiesta era noi non vogliamo rifiuto del risarcimento vogliamo una lira simbolica una lira simbolica per Alba e non vogliamo nulla di più perché non si abbia a dire che la nostra sofferenza si può pagare con il denaro però Tina Lagostina Bassi e Maria Magnani noi a cosa chiedono chiedono invece che venga dato un risarcimento al movimento delle donne bene questa richiesta anche questa totalmente anomala come dire viene accettata dai giudici e i giudici accettano quindi appunto nella sentenza si dice verrà discusso in sede civile il risarcimento perché si riconosce l'importante ruolo che il movimento delle donne svolge contro la violenza per combattere la violenza sessuale questo risarcimento non ci sarà mai però voglio dire è importante questo quindi è davvero un processo dai molti primati ed è davvero un segno uno spartiacque e poi come dicevate voi appunto prima questo questo frangente storico è davvero un momento di accelerazione di processi di vari processi e di vari movimenti perché in questi cinque anni che vanno dal cinque sei anni che vanno appunto dalla metà degli anni settanta settantacinque ottanta beh come dire sono anni fondamentali nascono i primi centri cioè una vera io la chiamo una vera e propria controffensiva femminista contro la violenza sulle donne nascono i primi centri antiviolenza il primo a Roma ma poi si diffondono nascono questa politica dei processi cioè questa denuncia questa vicinanza con le vittime si verifica in tantissime altre città diventa proprio una modalità di protesta e viene messa in discussione finalmente gli articoli del codice penale Rocco che venivano ricordati prima articoli del codice penale Rocco che come voi sapete derubicavano lo stupro come delitto contro la moralità pubblica e il buon costume non contro la persona ma contro la moralità pubblica io donna io persona era lo slogan poi appunto che è stato come dire che è stato portato avanti nella raccolta delle firme per la legge di iniziativa popolare io donna io persona proprio per contestare questo ma allora io arrivo poi a una domanda a rispondere a una domanda che mi è stata posta da Angela mi pare questo processo ha avuto allora un'ecomediatica enorme e quando dico enorme vuol dire che ne hanno parlato erano presenti tutti i giornali tutte le riviste non solo nazionali ma addirittura internazionali e poi appunto perfino la televisione e la discussione su questo processo è andata avanti per settimane per mesi allora perché intanto per il motivo che sottolineava prima Angela cioè perché effettivamente è stata una scelta delle femministe del coordinamento femminista ma anche appunto della ragazza di voler usare in un certo quel senso i media per far passare questa denuncia pubblica cioè per far passare ecco questo questo contenuto femminista e questo è stato possibile intanto perché appunto diciamo così c'era una particolare sensibilità al momento su questo tema perché eravamo in presenza di una ragazza particolarmente combattiva particolarmente coraggiosa perché c'era un movimento organizzato e c'era un movimento che ha saputo anche come dire insegnare ai media non sono stati non sono state alle regole dei media e io nel libro lo scrivo e faccio vedere anche delle scene molto belle erano loro che dicevano no la conferenza stampa la venite a fare nel centro appunto del coordinamento nella sede del coordinamento delle donne dovete sottostare a queste regole non dovete fare queste domande dovete quindi veramente una specie di contrattazione però come storica io mi sono posta delle domande e da queste domande è partito poi come dire la mia veramente la mia ricerca la mia curiosità la domanda è questa ma come è stato possibile che un evento che ha avuto all'epoca una risonanza nazionale addirittura una come dire un documentario televisivo in prima serata di cui hanno parlato tutti come è stato possibile che di questo questo evento sia stato poi cancellato dalla storia e dalla memoria a proposito di memoria ecco questo è stato l'interrogativo storiografico da cui io sono partita e al quale ho dato come dire una serie di risposte una serie di risposte la prima risposta è che è come dire è un po' complessa e certamente qui non c'è il tempo e riguarda il rapporto tra memoria e storia la memoria si esaurisce nel tempo e se non diventa poi storia cioè se non viene recuperata scritta documentata eccetera non si trasmette la seconda è un po' quello che si diceva questo è avvenuto in un centro che era considerato piccolo non a Milano non a Roma cioè era un po' una realtà periferica ecco la storia delle donne è spesso è partita spesso scrivendo sui grandi centri su Roma su Milano ecco le realtà periferiche erano state un po' trascurate adesso c'è un recupero molto forte di questa storia del femminismo periferico perché è vero appunto come diceva Patrizia che questo la nostra realtà italiana è stata caratterizzata da un femminismo assolutamente diffuso e pervasivo è forse un caso straordinario così lo definisce appunto lo definiscono le storiche insomma Anna Rossidoria la grande studiosa di questo quindi è stato davvero un interrogativo e ovviamente io di questo processo ero conoscenza io sono nativa di Verona ero a Verona in quegli anni quindi io sapevo e da questo ho potuto dire no questa cosa non può non può non essere recuperata non può non essere scritta è recuperata attraverso una serie di fonti fonti orali fonti documentarie appunto giornali fascicolo processuale eccetera eccetera e e certo le fonti fotografiche rappresentano una grande e qui vediamole insieme vediamo insieme queste immagini che sono veramente molto belle ecco a richiedere il processo a porte aperte ovviamente vengono raccolte migliaia di firme ma arrivano telegrammi da tutta Italia vedete questo per esempio di Dacia Maraini ma questo è anche della rivista F la rivista F era una delle riviste più importanti di allora quindi c'è stata veramente una partecipazione nazionale una spinta nazionale per questo ecco e questo è un manifesto che viene affisso nelle vie della città ed è un manifesto stranissimo perché dice pochissime cose noi donne diciamo basta alla violenza ma riporta i versi di una poesia che è una poesia peraltro anonima molto bella e poi certo ecco qui vedete appunto nei giorni prima e nei giorni stessi del processo che si svolge proprio nel cuore della città di Verona in piazza dei signori c'è tutto vengono allestiti tutti questi manifesti insomma che denunciano la violenza vedete questo che dice per esempio che la piazza che la staga e che la tasa che la staga in casa che è il famoso proverbio veneto appunto riferito alla donna e vedete i passanti che si fermano a guardarli e questo è il grande striscione da cui ho preso il titolo del mio libro stiamo insieme ora per non essere mai più sole ecco questo stiamo insieme ora stiamo insieme è veramente il leitmotiv dei volantini del che accompagnano la grande mobilitazione l'idea è che le donne da sole non vincono né la violenza né niente solo come dire un movimento collettivo solo stando insieme e qui vedete le donne all'interno già come dire delle aule del tribunale e fin da allora era molto chiaro quello che sta scritto su questo Tazebaum la violenza carnale è una delle violenze che le donne subiscono quotidianamente è una cioè parte quindi anche come dire tutte le altre violenze vedete i sit-in vedete appunto le donne in piazza sedute questo è un elenco di tutti i gruppi che erano che firmano i volantini che erano presenti di tutti i gruppi del Veneto e qui e questo questo se rimetti quella foto di prima questo non è banale perché come sai uno dei dei limiti poi del femminismo negli anni 70 era stata la capacità di fare politica con i partiti in Parlamento il fatto che ci fosse questo coordinamento io l'ho trovato un elemento piuttosto rilevante e diverso rispetto alla traiettoria successiva coordinamento veronese gruppi femministi collettivi donne MLD UDI questi sono diciamo quelli veronesi tutti gli altri che vedete Padova vedete il comitato Triveneto per il salario al lavoro domestico a proposito appunto delle di Padova tutti gli altri si aggregano si aggregano a questa grande mobilitazione anche con posizioni diverse come io faccio sottolineare poi nel libro ecco però certo in questa mobilitazione c'è una grande unione anche nella diversità di posizioni e questo è l'elemento sicuramente che fa la forza come sempre e dicevo che mi soffermo un attimo su questa immagine perché le clip che vedremo del filmato Rai si riferiscono molto a questa cosa che vedete e questo cos'è è una manifestazione teatrale si usava molto il teatro come tipo di espressione e sono delle figure incappucciate come vedete che rappresentano ecco vedete qui le vedete meglio rappresentano i soggetti che opprimono le donne la donna allora si diceva come vedete hanno delle educazione l'educazione la medicina la legge l'uomo ecco e ci sono e rappresentano questo è una specie di controprocesso perché accusano le donne e le donne poi dal pubblico dal pubblico sottostante si alzano a rispondere vedremo e qui vediamo proprio l'avrete riconosciuta Tina Lagoste Nabassi nell'aula del processo l'avvocato vestito di bianco è invece Vincenzo Todesco cioè lo stesso avvocato del processo Piero Bon che allora era un giovane avvocato appunto e qui vedete Maria Magnani Noia ovviamente come avete visto il volto sfocato è sempre nel rispetto appunto della privacy e della persona ecco altri manifesti altri manifesti ecco questo questo in particolare la giustizia dello Stato è contro di noi potere alle donne ci dice che non era veronese ci dice che non era veronese perché questo è come dire uno slogan molto molto vicino ai gruppi padovani del salario al lavoro domestico e io so dalle testimonianze che questo crea anche poi un certo una certa come dire dibattito tra i gruppi appunto partecipanti rispetto a questi manifesti qui ovviamente il coro delle donne che scandiscono basta violenza sulle donne lo vedremo dopo i carabinieri e qui la carica della polizia perché a un certo punto appunto quando le avvocate ricusano la corte e denunciano la vittimizzazione secondaria ci sono dei momenti molto forti molto di grave scontro ecco vedete e questa è l'unica foto a colori che rappresenta ancora una volta questo momento appunto anche di dibattito pubblico che c'era mentre andava in onda il processo diciamo le femministe si trovavano a discuterne e queste fotografie come vedete che sono molto belle perché sono state fatte ripeto da un fotografo molto importante famoso allora che lavorava per l'europeo tra l'altro l'espresso ed era Luca Sulliano e Luca Sulliano ovviamente io ho dovuto chiedere sono tutte coperte dal copyright per cui non si possono più di tanto appunto mostrare al di fuori di questo contesto Luca Sulliano era appunto tra i vari fotografi presenti in quel momento bene io credo che mi fermo qui e possiamo non so come siamo coi tempi ma se ci sono domande facciamo vedere il video tra l'altro io visto che l'hai citato Lucas la casa dei tre oci nella nuova sede delle stanze della fotografia a Lacini farà una mostra dedicata a Lucas a partire da 30 marzo 27 marzo vabbè lo dico Alvise potresti far partire il video grazie tu donna afferisci di essere stata violentata ma il tuo racconto non quadra tu dici di essere stata violentata eri d'accordo con i tuoi violentatori per piantare il tuo ragazzo o hai organizzato tutto per giustificare una tua gravidanza eri vergine o no se non eri vergine la violenza non esiste ci faremo le prove ginecologiche per vedere se lo è li hai certamente provocati perché ti trovi per strada a quell'ora perché esce alla sera invece di stare a casa come tutte le brave ragazze ce la sei voluta tu ti è piaciuto hai provato orgasmo se ti fossi opposta come dici non ci sarebbero riusciti raccontami di preciso cosa ti hanno fatto è ora di finirla con queste violenze continue mi sono rivolta alla polizia per chiedere di giustizia ma mi tratta come una buttana una colpevole frugano nella mia vita privata senza ritegno per scoprire qualche prova di colpevolenza come se fosse una colpa uscire di sera o abitare in periferia ed essere costretta a fare strade bule si per loro è una colpa come lo è il fatto di dover decidere della propria vita e non subirla e per questo mi fa rivivere quei momenti sottoponendomi a domande angosciose a degradanti visite ginecologiche io quella sera non facessi niente di male che fossi semplicemente fuori con un amico questo messo in dubbio ma in realtà mentre ero fuori credevo che ci volessero aggredire picchiare e quando la realtà di quello che volevano farmi mi è crollata addosso ho cercato di ribellarmi in ogni modo ma è difficile perché è un'educazione che ci ha sempre voluto represse incapaci incapaci di reagire alla forza dell'uomo mi è crollata addosso e mi hanno violentata e adesso la violenza si ripete perché mi trattano da colpevole ma è ora di dire basta altre violenze continue basta la violenza contro il nostro sesso non poter uscire da sole senza essere sottoposte senza essere sottoposte a pesanti aggressioni degli uomini io dico basta a queste cose dico basta a una polizia che non ci difende che decide per noi basta a chi non vuole che questa vita sia nostra anche dopo che ci hanno violentate subiamo il processo da imputate siamo in tante siamo più della metà siamo sempre state in questa umanità siamo sempre stato un oggetto più o meno bello un bello oggetto con delle doti fisiche sempre in dentro il cervello i miei rapporti con i ragazzi sono sempre stati una violenza ricordo tutte le ore che ho passato davanti a uno specchio a pensare come dovevo truccarmi come dovevo vestirmi pensare a dove potevo andare per trovarti sperando che tu ti accorgessi di me e poi quando finalmente avevo un ragazzo mi sentivo qualcuno ero felice ma perché mi domando mi sentivo qualcuno dal momento che è lui che ti sceglie lui che decide quando venire con te e quando sei insieme a lui lui che decide cosa fare lui che decide dove andare lui che può avere una vita sua degli amici che può uscire di casa la sera e io in casa ad aspettare la sua telefonata che non arriva mai e a macerarmi lì l'angoscia pensando alle corna che mi stava facendo io accuso l'uomo per la violenza che ha fatto la mia sessualità io ho dovuto vincere tutte le mie paure tutte le mie remore per poter soddisfare le sue esigenze perché lui mi minacciava che sennò avrebbe cercato altri rapporti justificandosi dicendo che già l'uomo è cacciatore io accuso l'uomo per la violenza che ha fatto sulla mia mente quando mi innamoravo dovevo mettere da parte tutte le mie idee rimangiarmi tutti i miei progetti non potevo più fare niente ero senza interessi e quando un ragazzo mi piantava e mi trovavo da sola mi trovavo a dover ricominciare tutto da capo senza amici senza niente e sempre con minor fiducia in me stessa ma ho detto basta tutta questa violenza io ho ancora voglia di cercare un rapporto con un uomo perché penso che qualcosa di diverso possa esistere e possa nascere però accuso l'uomo di non fare niente perché questo rapporto diverso nasca accuso la sua violenza verso la mia personalità che non è mai presa sul serio lo accuso per la violenza che mi fa quando cerca di distruggere ogni mia convinzione lo accuso per la violenza che fa la mia sessualità lo accuso di non volermi aiutare e capire nella mia crescita e lo accuso di farmi la stessa violenza che i nostri padri fecero le nostre madri grazie a tutti le vostre distinzioni le rifiutiamo tutte siamo stupe di fare bambini lavare i piatti tirare i pannolini avere un uomo che ci fa da padrone e ci provisce la contraccezione siamo stupe di far quadrare ogni mese il bilancio familiare la fare cugire unire e cucinare e chi soffiede chi ci mantiene noi siamo stupe della pubblicità che deforma la nostra realtà questa moderna schiavitù d'oggi in poi non l'accentiamo più noi siamo stupe di essere sfruttate mutane o sante venire classificate basta con la storia della virginità vogliamo la nostra sensualità ci hanno inviso tra tutte belle ma tra di noi siamo tutte sorelle tra di noi non c'è distinzione al nuovo e adesso ci sono le scene del processo ecco coordinato sull'eccezione di nullità proposta dal patrono di parte civile sentito il pubblico ministero e i difendori delle altre parti rilevato che l'interrogatorio della parte resa senza l'assistenza del genitore non costituisce nullità alcuna non essendo prevista alcuna disposizione di legge né è riconducibile alle nullità di ordine generale stabilita dall'articolo 185 codice procedura penale per questi motivi respinge l'eccezione come sovrapproposta e dispone procedenti oltre al dibattito ci sono a quest'anno possiamo chiudere il dibattimento non costituisce non costituisce Basta violenza sulle donne! Basta violenza sulle donne! Sono immagini molto forti, penso che restituiscano molto di quello che era il clima di allora, la grande mobilitazione e diciamo proprio la spinta anche forte del movimento contro questa vitimizzazione secondaria. La cosa che volevo dire è che tutto il documentario sarebbe bellissimo da vedere perché appunto c'è Alma che parla in prima persona, ma parla anche il suo fidanzato, parlano anche appunto le protagoniste di questo movimento e veramente viene messo molto a fuoco tutto quanto, quindi peccato non poterlo vedere. La cosa invece che volevo, un'altra cosa, una piccola osservazione di carattere storico, io invece sono riuscita nel mio lavoro di ricerca a rintracciare le attrici, come dire, di queste donne che avevano scritto questi testi, erano anche molto improvvisati, insomma, che avevano messo in piedi il controprocesso, per così dire, e a raccogliere le loro testimonianze perché anche queste erano molto belle e inaugurano peraltro una pratica che sarà poi diffusissima in tutte le mobilitazioni dei processi, ma anche più generale in tutte le mobilitazioni contro la violenza sessuale, che è la pratica dello speak out, cioè l'alzarsi davanti a tutte le altre e raccontare la violenza subita. Questa racconta contro, insomma, il suo ragazzo, contro le esperienze che ha avuto, ma c'erano poi altri tipi di denunce ed è, ripeto, una pratica che addirittura io ho trovato documentata anche a Londra, anche altrove, in Francia, eccetera, era proprio diventa una pratica politica. Vogliamo sentire se ci sono delle domande, se qualcuno vuole fare un intervento, dire qualcosa? No, adesso salgo, le porto il microfono. No. Grazie, un saluto e un ringraziamento. Sono Patrizia Marcuzzo, Centro Antiviorenza del Comune di Venezia. Affascinanti le vostre narrazioni, le vostre letture, le vostre analisi. Eccezionali questi documenti. È cambiato tanto, ma è cambiato pochissimo. Sono passati tanti anni, le leggi sono cambiate, abbiamo fra le migliori legislazioni la Convenzione di Istanbul, senz'altro, è stata ratificata dall'Italia, eppure tutti i giorni al Centro Antiviorenza queste sono le storie. Eppure l'associazione Dire emerge da una ricerca fatta dall'associazione che la vittimizzazione secondaria, il luogo principale in cui viene realizzata, è il Tribunale, sono i percorsi giuridico-legali. Tutte le fatiche che facciamo tutti i giorni per capire insieme alla donna se è opportuno intraprendere un percorso giuridico-legale, nonostante il Codice Rosso, nonostante gli obblighi, forse obblighi di denuncia, perché poi ci sono delle conseguenze. E tutti i giorni ci portiamo a casa storie di donne che hanno intrapreso percorsi giuridico-legali e che sono stati devastanti, devastanti per loro, devastanti per i bambini. E quindi sono sconfortata. Io sono una persona, professionista, molto molto motivata, molto forte dalle energie instancabili, eppure uscirò sconfortata da qua. Grazie per il libro, è stato affascinante ascoltarvi, però è stato molto molto pesante fare questo confronto e vedere che siamo ancora lì, nonostante sembri che molto sia cambiato. Grazie. Ci sono altre domande? Beh, posso intanto rispondere, cioè rispondere. Ringrazio intanto davvero per questa presenza e per questa testimonianza che è importante. Io devo dire, ed era un ragionamento che veniva fuori anche prima, appunto lo faceva anche Patrizia e Lorenza, insomma un po' questo dire ma a che punto siamo, sembra a volte di tornare indietro. Ecco, io un pochino però sono ambivalente su questo, cioè nel senso vedo molto i progressi anche, oltre che ciò che ritorna e si manifesta, e secondo me noi dobbiamo avere questo atteggiamento, dobbiamo vedere questo, perché per esempio, vabbè, allora non c'era neanche lo strumento della legge per dire, rendiamoci conto che quando questo processo è avvenuto, nel 76, ripeto, c'era un codice, non solo un codice penale, ma un codice di procedura penale, che era pazzesco, cioè il corpo della donna violentata diventava corpo del reato, esso stesso, e quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che veniva sottoposto a perizie obbligatorie, e a perizie di parte, cosa che per fortuna adesso non succede più, in questa forma, in questa forma, obbligatorie, quindi una cosa, quindi abbiamo una legge, abbiamo certamente una consapevolezza molto più forte nelle donne, allora, come dire, questa era più debole, e soprattutto che cosa abbiamo? Abbiamo un esempio di lotta, perché è questo il messaggio che io vorrei che arrivasse da questo libro, il messaggio da questo libro e questa storia di Alma è una storia di lotta, è la storia di una donna che da vittima vuole essere invece protagonista di una denuncia, di un cambiamento, ben consapevole, come tutte noi, allora e ora, che la battaglia non si svolge sul piano legale, che la battaglia non si svolge su questo livello, la battaglia è una battaglia culturale, perché esiste questa, che si chiama oggi, diamo questo nome appunto, cultura solidale con lo stupro, è il termine che ha coniato Susan Brown Miller, una delle prime, 1975, autrici di uno studio approfondito su questo. Allora, la battaglia è culturale, e noi come storici sappiamo che le trasformazioni culturali sono sempre trasformazioni molto lente, molto lente, puoi avere una legge anche molto innovativa, ma ecco, e soprattutto che ci sono periodi appunto di progressione, periodi di regresso, però ecco, l'invito è teniamo alta la battaglia, teniamo alto l'impegno in questa direzione, e sempre appunto insieme. Ecco, forse quello che è venuto un po' meno in questi anni è proprio invece la spinta di un forte movimento come c'era allora. Prego. Ma io credo che le donne denunciano sicuramente di più di una volta, cioè prima del processo appunto messo in luce da Nadia, quanti stupri sicuramente ci sono stati, quante violenza, quanto, però le donne appunto non avevano la forza perché forse non c'erano neanche, non c'erano altre donne vicine. Perché io credo che il peggioramento, ciò che viene chiamato, almeno come lo interpreto io, magari mi sbaglio, non sono una, ma non ho professionalità su questo, è perché aumentano le denunce. Le donne hanno più coraggio, insomma, ecco, a dire, insomma, a dire cosa succede. Paradossalmente, questo fa un po' male, ma anche tutto il discorso dei femminicidi, si dice, molte lo affermano, che è perché gli uomini non accettano che le donne, come dire, li lasciano, vadano via di casa, eccetera, quindi anche paradossalmente, appunto, dicevo, è anche brutto dirlo, i femminicidi sono un sintomo che le cose sono cambiate, che le donne hanno tutto questo coraggio, che gli uomini non accettano, quegli, quegli uomini, non tutti, tutti gli uomini, quegli uomini non accettano, c'è una cultura cambiata e molti uomini non riescono ad adeguarsi, insomma, a questo cambiamento, non fanno un cambiamento dentro di loro, quindi a me sembra che su questo siamo andati avanti. Ecco, qui forse vorrei sentire dire, no, no, perché è materia tua questa, è materia tua. Una battuta conclusiva, così. Ma no, sui femminicidi, ma non, diciamo, l'intervento della signora, io lo posso anche condividere, perché in effetti le donne vengono uccise quando cercano di allontanarsi da un uomo, che è spesso un uomo violento, e sono uomini che non tollerano l'autonomia e la libertà delle donne. Però, come dire, come diceva lei, è un paradosso, ma forse più che un paradosso, una tragedia, no? diciamo che è un prezzo altissimo che stiamo pagando. E' come se le trasformazioni qui, naturalmente, i nostri punti di vista non credo che siano così diversi, solo in certi momenti della giornata uno è più ottimista, più pessimista, dipende da quello che legge sul giornale quella mattina o dagli studenti e le studentesse con cui parla in quella giornata. una mia studentessa alcuni anni fa aveva fatto una comparazione, aveva cercato di fare una comparazione utilizzando gli articoli sul Corriere della Sera delle donne uccise, se non mi sbaglio, negli anni 70-80 dai partner, insomma, in ambito familiare ma soprattutto di coppie, le donne uccise poi a partire dal 2000. E era molto difficile fare un'analisi quantitativa perché poi sappiamo che non tutti gli omicidi arrivano a essere pubblicati. non tutti i casi di violenza ma neanche gli omicidi arrivano sulla stampa. Però diciamo che fino agli anni 80 erano soprattutto le moglie a essere uccise e anche in mancanza di un divorzio accessibile e poi erano le donne e poi erano le donne invece l'ex moglie o le donne che si separavano. Allora, se questa lettura ha qualcosa di vero è molto inquietante perché cambiano come dire cambiano gli strumenti ma c'è questo zoccolo duro utilizzo un'espressione che ha utilizzato l'ISTAT confrontando appunto i dati delle due grandi ricerche sulla violenza contro le donne c'è uno zoccolo duro di uomini che non accetta il cambiamento per cui le donne sono una possessione e se non stanno al loro posto vengono rimessi in riga anche con la morte. Tra l'altro una cosa che a me inquieta molto siamo sempre poi ti ridarò la parola perché vedo che hai un atteggiamento a parte che sta a te concludere ma sei anche un pochino più ottimista questo mi sembra mi sembra un buon segno io trovo molto inquietante i fatti che sono frequenti di giovani uomini che uccidono altri giovani uomini perché questo ragazzo aveva guardato quella che è considerata la tua fidanzata e come dire sono espressioni della stessa della stessa cultura quindi gli uomini continuano a uccidersi perché si sentono toccati nella loro virilità se qualcuno guarda la loro donna quindi allora certamente i cambiamenti sono molto lenti a volte le leggi anticipano però il cambiamento deve essere sostenuto da un movimento politico quindi è questa assenza che mi preoccupa in particolare grazie allora grazie grazie a tutti grazie alle intervenute alle relatrici grazie all'autrice Nadia Maria Filippini per chi vuole ci vediamo domani alle 18 oppure sabato alle 11 e poi la passeggiata alle 15 spero che abbiate apprezzato questo contributo M9 come dire è sempre sul versante delle donne siamo siamo molto partecipi grazie mi fa piacere anche che ci fossero degli uomini lo dico grazie a tutti e buona serata grazie grazie a te e alle 9 grazie e ovviamente alle relatrici grazie 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 Grazie.